Palazzo Gradari ha ospitato la quinta edizione del convegno Le nuove frontiere della comunicazione sociale, organizzato da Aido Pesaro a suggello di una collaborazione con la Facoltà di Scienze della Comunicazione di Urbino. Una collaborazione instaurata fin dal lontano 2006 per sensibilizzare ad un tema delicato quanto decisivo in ambito medico come la donazione di organi. Studenti ed istituzioni hanno gremito il Salone Nobile per ascoltare le testimonianze in materia di professionisti dell'azienda sanitaria provinciale e del centro regionale trapianti, nonché di pazienti che hanno avuto una vitale seconda possibilità grazie ad un donatore. Un capillare lavoro divulgativo che è stato coordinato dalle ricerche delle professoresse Gea Ducci e Stefania Antonioni della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Urbino. La ricerca svela, diciamo, fa emergere come negli ultimi anni, ovviamente scontando un po' il periodo della pandemia che è stato critico per tutta la sanità e anche per la donazione. Nonostante questo, diciamo, sia le associazioni che le istituzioni hanno continuato a comunicare in maniera significativa, a fare ad esempio anche contest nelle scuole a distanza. Questa è stata una cosa straordinaria, anche nelle Marche in particolare, grazie appunto ad Aido, anche Aido Pesaro coinvolta. E vediamo negli ultimissimi anni veramente una grande crescita di campagne di comunicazione sul tema che sono sempre più anche, come dire, il frutto di un coordinamento tra istituzioni. La possibilità che è stata data in Italia attraverso la legge, appunto, che ormai risale da più di dieci anni fa, di poter esprimere la propria volontà di donare attraverso, quando si va a rinnovare la carta d'identità, un primo rilascio della carta d'identità elettronica, quindi presso l'ufficio Anagrafe, è stato un passo importante che diventa oggetto di campagne molto consistenti, soprattutto proprio nell'anno scorso, il 2023 e anche l'anno precedente, il 2022, in cui si è visto un coinvolgimento, per esempio, dei sindaci di tutta Italia. Questo coinvolgimento del comunicare assieme istituzioni come i comuni, le associazioni, i centri trapianti e quindi l'azienda sanitaria. È questo che fa ottenere maggior successo nella comunicazione? La nostra è un'associazione un po' particolare e naturalmente lascia sempre dei punti interrogativi nella gente e nelle persone perché si tratta di fare un prelievo di organi e di trapiantarlo. e molti non pensano che al momento in cui si fa la donazione la persona sia realmente deceduta ma che ancora ci sono, possa essere, ci sono delle cose. Però dobbiamo pensare che in Italia ci sono circa 10.000 persone in attesa di trapianto e che ogni anno se ne fanno sui 3.500-3.600 di trapianti e una certa parte di queste persone naturalmente non andranno a morire perché il trapianto è l'ultima spiaggia per certe malattie quando farmaci e cure mediche non riescono più a superire a quelle che sono le deficienze dell'organo.